buongiorno a tutti bentornati sul canale sono ancora in compagnia di daniele oggi arriveremo a padron circa 20 chilometri e domani si arriva a santiago sempre più pellegrini sul cammino Musica Oggi sento proprio il profumo di cammino francese, ci sono un sacco di pellegrini. Bello, un cane pellegrino, latte con la cau. Musica Il meteo dice che oggi è pomeriggio, ma soprattutto domani ci sarà pioggia. Non è un problema ormai dopo quei due giorni all'inizio sotto il temporale tutto il giorno. Questa nona tappa è molto carina, stiamo passeggiando praticamente dall'inizio lungo dei bei sentieri tra i boschi. Musica Musica Manca un'oretta all'arrivo. Musica Siamo a circa 4 km da Padron, ha cominciato a piovere. Ciao Musica E va bene Grande Musica Meno 30 km vai A noi la pioggia ci piace Si nuota qui Musica 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 Ma E finalmente abbiamo trovato un barretto, ci voleva. Quanto manca Daniele? Un chilometro, entriamo dopo il nord, l'ultimo chilometro, ce la faremo. Salute, abbiamo trovato un riparo alla fine, ci fermiamo un po'. Senti it eh? 500 metri all'arrivo ha praticamente smesso di piovere veramente un bel paese padrone adesso dobbiamo attraversare quel ponte e dall'altro lato dovrebbe esserci il nostro stello ok ancora chiuso manca poco a luna in ogni caso stiamo chiamando ok questo è il nostro bellissimo ostello ma guardate che bel tetto di legno quanti letti guardate l'ostello del giorno continuo ancora a piovere fortissimo domani sarà una giornata sicuramente di forte pioggia usciremo lo stesso molto presto e l'ultimo giorno c'è proprio bisogno di qualcosa di caldo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti